7 gennaio 1743 nasce Giovanni Francesco Conforti presbitero teologo giurista storico italiano martire della Repubblica Napoletana ordinato sacerdote giure consulto in utroque ovvero sia in materie civili che ecclesiastiche nel 1771 scrisse un saggio dedicato a Bernardo Tanucci il ministro del Regno di Napoli che aveva teorizzato la superiorità dello Stato sulla Chiesa. La difesa dei diritti della Corona fu apprezzata dal governo per cui Conforti venne nominato regio censore per la revisione dei libri stranieri e professore di storia all'università napoletana. Ma il cambiamento politico avvenuto nel Regno e conseguente alla rivoluzione francese comportò l'abbandono della politica anticurialista. Nel 1796 Conforti venne imprigionato con l'accusa di eccessiva liberalità. Tornato in auge nella Repubblica Partenopea fu eletto rappresentante del popolo. Con la reazione borbonica e la restaurazione fu di nuovo arrestato, condannato a morte e condotto al patibolo. Era il 7 dicembre del fatidico 1799.